Francesco Luca, Duva, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. In studio con me la professoressa Sofia Ventura, buongiorno professoressa. Possiamo dire che è il primo bilaterale Italia-Germania dove la Merkel è più debole del partner italiano? Beh, adesso non esageriamo. Diciamo che entrambi hanno dei problemi e sicuramente la Merkel è in un momento particolarmente delicato. entrambi però hanno dei problemi sulla stessa questione, cioè la questione immigrazione. Quindi l'aspetto negativo, cioè il fatto che comunque entrambi si trovano un po' anche tirati da componenti del proprio governo su questa questione, fa sì che siano costretti ad affrontarla. e quindi diciamo che forse anche in questo panorama di questa fase molto confusa vediamo che abbiamo vari attori sulla scena europea che sono costretti ad affrontare la questione immigrazione. Tra poco ci raggiungerà anche Gianni Trovati del Sole 24 Ore, verrà nei nostri studi. Si senta, Duval, il tema, uno dei temi, poi ci sarà anche contrasto alla povertà, ci saranno politiche per la crescita nel confronto Merkel-Conte di questo pomeriggio, però il tema centrale sarà quello dell'immigrazione, sarà la riforma di Dublino. La posizione italiana che il capo del governo ha ribadito anche a Parigi è ricollocamenti a livello europeo. Certo è che se l'ASA è con il Vittorio Urbana, che è uno di quelli che ai ricollocamenti ha detto sempre e soltanto di no, mi pare complicato. La nostra posizione è abbastanza chiara, come è noto ai telespettatori, oggi funziona così, che il regolamento Dublino-Ter dice che se un migrante raggiunge la costa di un paese, allora è quel paese che si deve prendere carico della sua accoglienza. Chiaramente questo va a totale svantaggi di tutti i paesi dell'Europa del sud, dell'Europa meridionale, è a vantaggio di chi sta su. Questa cosa non è possibile se l'Europa è unica. Se più che un'unione è una comunità, allora bisogna che ci sia veramente una comunione di popoli e che tutti assieme riusciamo a dare accoglienza a chi scappa ovviamente dalle guerre, perché ci sono persone che scappano dalle guerre che vanno accolte. Ci sono altri migranti che invece vengono qui senza averne diritto e in quel caso bisogna cercare di agire in modo diverso, come è ovvio. Ora, finalmente è la prima volta che una nave diretta per l'Italia raggiunge la costa di un altro paese. Questo è un segnale abbastanza chiaro, che l'Italia non è più disposta a piegarsi ai voleri dei vari Stati europei, ma che vuole invece rispetto. Quel rispetto che Conte è andato a chiedere anche in Francia e che adesso sta chiedendo in Germania, perché finora non è stato così e siamo fiduciosi che attraverso il dialogo, ma con fermezza, si possono ottenere grandi cose, sia per l'Italia che per l'Europa intera. Senta, Duva, ma qual è la differenza tra un gruppo di migranti salvati da una imbarcazione della Guardia Costiera e portati in Italia e quelli salvati da una ONG e che in Italia non possono arrivare? Beh, lo diceva lei, appunto la legge del mare. La legge del mare significa che se c'è una nave in difficoltà che sta affondando bisogna andare a salvarla. Ed è sacrosanto. Una volta salvata si dovrebbe portare al porto sicuro più vicino, che in molti casi in realtà è Malta, anche se Malta ha chiuso i propri porti, quindi la legge del mare purtroppo per qualche paese è venuta meno. Ci sono le navi dello Stato italiano che stanno nelle acque internazionali, o perlomeno nelle acque italiane, a fare questo lavoro. Quando ci sono le navi delle ONG che invece fanno questo stazionando di fronte alle coste libiche e aspettando il primo scafo, ecco che secondo me in maniera, io voglio dire involontaria, perché mi piace, diciamo involontaria assolutamente, fanno in qualche modo gli interessi anche di chi su questo business ci lucra parecchio, perché di fatto il fenomeno migratorio è da affrontare, ma c'è chi ci ha fatto i soldi e ci continua a fare i soldi. Questa cosa per noi è intollerabile, l'abbiamo vista in Italia proprio sull'accoglienza, i casi Buzzi, vi ricordate tutti quanti, Mafia Capitale, quando Buzzi diceva si fanno più soldi con l'accoglienza ai migranti che con lo spaccio di droga. Ecco, queste frasi hanno fatto capire molto bene sia il 5 Stelle che a tutti gli italiani che bisogna darci un taglio, che non è possibile continuare a foraggiare queste associazioni che invece ci guadagnano sulla vita di esseri umani. Allora, intanto saluto Gianni Troati sulle 24 ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Mi fa ricordare che però non tutto il mondo delle organizzazioni non governative è quella roba lì, che c'è tanta gente che ci mette l'anima per aiutare queste persone che sono in difficoltà, perché altrimenti mettiamo tutti nello stesso calderone e rischiamo di dare un'immagine che è completamente distorta. Gianni Troati, siamo partiti dal vertice di Berlino di oggi pomeriggio. Secondo, ho detto in apertura, con due convitati di pietra, Siroffer e Matteo Salvini. In questo ci sono due forze di destra che spingono i rispettivi governi. Assolutamente, e infatti la linea di Salvini trae forza anche dalle divisioni che stanno emergendo dentro al centro-destra tedesco. C'è un problema però, c'è una contraddizione da risolvere all'interno delle destre europee, perché i vari punti delle alleanze, diciamo così, degli interlocutori privilegiati di Salvini sono fatti da persone che sono accomunate dal fatto, da un'idea, diciamo così, di frontiere chiuse. Ora, se tutti i paesi a nord, nord-est, nord-ovest dell'Italia chiudono le frontiere, è il rischio che non aiutino molto, diciamo così, la gestione dei migranti in un paese di frontiera europea come quello dell'Italia c'è, nel senso che è vero che fino ad oggi anche tutti i tentativi più generosi a parole di redistribuzione per quote, per vari meccanismi, non hanno avuto alcun successo perché le quote non sono state rispettate da nessuno. Però, questa politica delle frontiere, cioè se l'Ungheria chiude le frontiere, l'Austria chiude le frontiere, eccetera, eccetera, fanno tutto, tutto quello che dice Salvini, il problema è che i migranti arrivano in Italia e l'Italia diventa un tappo. È una contraddizione, secondo me, abbastanza rilevante. La politica delle frontiere chiusa è più facile, guardiamolo proprio da un punto di vista strettamente utilitaristico e politico. È più facile per i paesi medi, grandi, piccoli che stanno in centro e nord Europa, perché sigillare la frontiera, a parte che è più facile, frontiera terrestre rispetto a frontiera marittima, ma vuol dire occupatevene voi e quel voi, corale, rischiamo di essere noi. Quindi è un'alleanza che, come dire, deve ancora fare, è in costruzione, ma deve fare i conti con questa che secondo me è la contraddizione fondamentale. C'è infatti nell'emore dell'idea di patto europeo, Berlino, Vienna, Italia, di spostare la frontiera europea, non più nel Mediterraneo e nelle coste italiane, ma addirittura in Africa con dei centri direttamente lì per le identificazioni e poi andare a scegliere e a trovare le persone che hanno diritto all'asilo. Certo è una cosa, professore Saventura, che c'era un tema che gli italiani guardavano con attenzione, rispetto al quale attendevano risposte, che è caldissimo d'estate, che è quello degli sbarchi. Matteo Salvini in 15 giorni l'ha preso e ha capovolto. Può piacere o no? Ma si è preso tutte le copertine che riguardano l'azione del governo, tutte lui. Sì, assolutamente, perché è stato molto abile, tra l'altro unendo anche a questa sua azione un grande cinismo e una dimensione ideologica fortissima, che spiega anche poi la contraddizione di cui si parlava, perché l'idea delle frontiere chiuse è soprattutto un messaggio ideologico che si sposa con prima gli italiani, che poi possono essere prima gli austriaci, prima le varie identità. Quindi c'è questo messaggio ideologico che però poi nella concretezza diventa contraddittorio rispetto al problema pratico del fatto che se tutte le frontiere si chiudono noi appunto rimaniamo, come in realtà siamo in qualche modo adesso, gli unici a poter accogliere. Però lui appunto ha utilizzato con grandi abilità il ruolo che appunto ha appena ricoperto di ministro dell'interno, anche ampliandolo. Noi sappiamo che poi spesso il ruolo lo fa l'uomo che lo incarna. Ecco, diciamo che l'uomo che lo incarna in questo momento è abbastanza ingombrante, per cui il ruolo di ministro dell'interno sfuma un po' quasi in quello di primo ministro, anche perché c'è un primo ministro che al momento ancora diciamo non ha mostrato un profilo particolarmente alto, mischia moltissimo il suo ruolo, proprio anche dal punto di vista comunicativo, il ruolo di leader politico e quello di ministro dell'interno e ci ne accorgiamo continuamente dai filmati su Facebook e così via. Quindi sicuramente è riuscito a dominare la scena, tant'è che vediamo che Di Maio e il Movimento 5 Stelle ora sono alla rincorsa con temi altrettanto simbolici, anche se indubbiamente che hanno un impatto minore sull'opinione pubblica, come temi legati appunto al lavoro e non a caso appunto Di Maio ha scelto questo simbolo dei rider in questo momento, che consente anche di riprendere alcuni elementi di una narrazione, le multinazionali cattive e quindi la difesa del lavoro, dei precari, del precariato, e anche qui appunto c'è un inseguimento molto simbolico, il che non significa che la questione non vada affrontata, però un po' come abbiamo già visto in passato, era un po' la modalità di Renzi questa, innanzitutto si butta la questione in passo al pubblico, poi eventualmente si fa un po' un passo indietro e lo si affronta in maniera più problematica. Ecco, diciamo che il termine passi indietro ad oggi per Matteo Salvini non è molto malato. No, infatti stavo pensando Di Maio, no, 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 nel caso di Salvini, in caso di Salvini no. Ecco, in tutto questo, poi Duva, arriviamo al decreto dignità, quello sui rider, oggi c'è un incontro importante, rider incontrati dal ministro del lavoro e dello sviluppo economico come uno dei primissimi atti da quando si è da quella di Castero, però c'è un tema che non le sfuggirà, e cioè che la guida, almeno simbolica, almeno dal punto di vista del messaggio che passa di questo governo in questi primi 20 giorni, 15 giorni, è di Matteo Salvini, con buona pace di tutti quanti, ha imposto lui la sua agenda, non la soffrite questa cosa, vedo che dice di no. No, però non mi piace nemmeno questa lettura, non riesco a riconoscerla, noi quando ci siamo candidati, sa benissimo, siamo cittadini normali prestati dalla politica, di questo si tratta, siamo stati molto coerenti con quello che abbiamo detto in campagna elettorale, nel nostro programma elettorale, chiamato appunto i 20 punti per la qualità e la vita degli italiani, abbiamo promesso tante cose che vogliamo mantenere, ora queste cose se uno si aspetta e si possono fare in 30 giorni, chiaramente si sbaglia, noi siamo qui per fare le cose che servono veramente al Paese, tra queste come sapete c'è il reddito di cittadinanza su cui tanto si è detto e tanto si può ancora dire, ma è appunto quello che sta dicendo lei il decreto di dignità, forse tu vi è arrivato il momento di dire meno e farlo perché ora c'è dal governo, sicuramente sì, ma lo vogliamo fare, è chiaro che bisogna iniziare con i centri per l'impiego, una volta ci sono i centri per l'impiego per fare in modo che non sia semplicemente una misura assistenzialista, allora si può fare il reddito di cittadinanza e siamo al lavoro per farlo, ma intanto c'è il decreto di dignità che è una prima risposta che il Movimento 5 Stelle dà ai cittadini, a quella che è la gig economy, tanto per cominciare, che sono i giovani, che poi in realtà nemmeno giovani, perché mi è capitato di vedere anche persone più grandi costrette a fare questo lavoro, che gli si può dare dignità, di cosa si tratta? Si tratta di queste persone che oggi vengono utilizzate dalle multinazionali e fanno lavori abbastanza stancanti, pagati a cottimo e con turni massacranti, questa cosa per quanto ci riguarda non è possibile, vogliamo cambiarla, vogliamo che ci sia una reale lotta al precariato, è possibile anche andare a combattere quelle multinazionali che vengono in Italia e si prendono a volte, non è questo il caso, ma in generale, possono anche prendere finanziamenti pubblici e poi andare all'estero, queste cose vanno assolutamente fermate. Ora, tornando alla gig economy, ovviamente ci sono questi fattorini che utilizzano delle applicazioni per lavorare che vanno protette, non l'ha fatto nessuno finora, vogliamo farlo noi e siamo fiduciosi che questa è una di quelle misure reali che serve al Paese, al di là dei proclami, al di là di tutto, è quello che serve agli italiani che ci hanno votato. Io capisco, però comprenderà che dal punto di vista simbolico, come diceva la professoressa Ventura, un conto è prendere in mano il dossier immigrazione e svilupparlo, come avrà notato nel dibattito parlamentare, secondo i canoni del programma del centrodestra, perché Fratelli d'Italia, Forza Italia, hanno tutti espresso grande soddisfazione per quanto fatto da Matteo Salvini, un conto è iniziare da una battaglia simbolicamente importante e rilevante, come si diceva poc'anzi, ma che dal punto di vista della proiezione esterna, non so se il termine giusto, ha un effetto diverso. Ma guardi, questa non è una gara a chi fa prima le cose tra Lega e Cinque Stelle, il governo è unico. Se l'obiettivo è votare tra cinque anni, no, se l'obiettivo è votare presto, sì. Ma per quanto mi ricordo l'obiettivo è prendere il programma di governo e portarlo a compimento, se qualcuno si tira fuori prima da questo programma di governo, allora abbiamo scherzato. Noi come Movimento Cinque Stelle vogliamo portare avanti tutti quei punti, sia quelli che abbiamo proposto noi che quelli che sono arrivati dall'altra parte, perché ci siamo impegnati per farlo e ci impegneremo per farlo e siamo anche convinti che lo farà la Lega. Questa narrazione io non la condivido, ecco. Sono certo che invece possiamo fare grandi cose e lo faremo tutti assieme con il Presidente del Consiglio Conte, che anche se qualcuno vuole dire che non è forte, si sta dimostrando invece un abilissimo politico, perché è andato al G7, si è fatto apprezzare anche da Trump, è andato in Francia, adesso alla Merkel e sta dimostrando che l'Italia è un Paese più forte di quello che è stato finora. Sulla vicenda francese, soprattutto nella ricomposizione, ruolo evidentemente anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che col Presidente del Consiglio ha fatto in modo che si ricomponesse il quadro dopo quella telefonata notturna, il comunicato di Macron che non prevedeva delle scuse, ma comunque è stato un segnale importante che andava colto e che Quirinale e Presidenza del Consiglio hanno voluto cogliere. Gianni Troati, sarà anche una narrazione, per carità, però se la flat tax, come dice Caravaglia stamattina, si può iniziare a fare ad agosto, subito, perché le imprese, reddito di cittadinanza servono i tempi che servono, ci rispiegava Duva. Politica dell'immigrazione, costo zero, pronti e via, magari l'Egittima difesa, pronti e via, noi penseremo tutti male, ma che un'idea sulla primavera 2019 Salvini ce l'abbia? Ma diciamo che sì, la narrazione poi magari, prima o poi finiremo di narrare e vedremo qualcosa di concreto, perché qui sono 100 giorni che narriamo e anche il narratore più indefesso dopo un po' è il fiatone, ma detto questo… Figurarsi gli ascoltatori. Figurarsi, un saluto e un bacio a tutti quanti. Solidarietà a tutti. No, il punto è questo, è evidente che c'è un segno fortemente leghista in questa primissima fase dell'immigrazione del governo, ma c'è anche una ragione. Allora, a confrontarsi sono due realtà politiche profondamente diverse fra di loro. Da un lato c'è la Lega, che ha una costruzione ideologica molto solida, piace o non piace, e soprattutto figlia di una costruzione di anni, cioè la Lega, l'evoluzione che ha avuto adesso la Lega nazionalista piuttosto di destra, con una serie di parole chiave evidenti, è figlia di una evoluzione studiata e portata avanti con metodo per anni. determinato, appunto, una impostazione ideologica forte, molto coesa e molto riconoscibile. Questo è il primo, uno dei due azionisti. L'altro azionista, invece, è in una fase, diciamo così, molto più fluida, perché… Per natura, perché è un movimento molto più giovane, che è cresciuto molto in maniera, diciamo, un po' convulsa, nel senso che il Movimento 5 Stelle di oggi non è lo stesso Movimento 5 Stelle di qualche anno fa. L'idea in campagna elettorale, l'idea di alleanza con la Lega era respinta con sdegno da quasi tutti gli esponenti di punta del Movimento 5 Stelle. E viceversa, aggiungo, no? Anche la Lega… E viceversa, certo. Però la Lega, appunto, ha portato il suo bagaglio ideologico molto solido, molto, diciamo, figlio di un'elaborazione lunga e coerente, l'ha portata al governo e anche con un po' di mestiere in più rispetto agli esponenti di punta di 5 Stelle, perché quelli della Lega fanno politica da parecchi più anni, diciamo così, quindi c'è anche un po' di mestiere. Diciamo che negli amministratori della Lega l'idea del cittadino che si presta per un momento. No, infatti, anche la squadra di governo, i viceministri, i sottosegretari, eccetera, è fatta da gente che fa parte di politica da 10, 15, 20 anni, quindi ne conosce le dinamiche, conosce i meccanismi, conosce anche le furbizie, no? Della azione politica e quindi è riuscita a imporre il segno. Ora, naturalmente questo segno leghista è molto forte e molto evidente adesso. Adesso noi giudichiamo tutti i giorni una maggioranza e un governo che sono costituiti da due settimane, tre settimane, non hanno ancora portato provvedimenti in Consiglio dei Ministri, non ci sono neanche ancora le commissioni formate al Parlamento, quindi la nostra è inevitabilmente un'ottica di breve periodo, gli sviluppi sono successivi. Vedremo se Salvini vorrà andare a votare più o meno insieme alle europee, eccetera, perché è vero che lui è molto forte nei sondaggi, è vero che la storia politica però è piena di gente che chiude un'esperienza politica perché pensa di andare al voto e prendere tutto e poi crolla. Viene per esempio una data in mente, tipo 4 dicembre, l'ultima idea che c'era. Cioè le elezioni, soprattutto in questi ultimi anni, gli elettorati sono molto fluidi, appunto come sanno dalle parti del Nazareno per esempio, l'elettorato ha una fluidità molto ampia, dipende da un milione di variabili, il comportamento dell'elettorato, variabili in larga parte non controllabili dai leader politici, eccetera, quindi io starei attento a immaginare… Sì, infatti ricordo cosa ha fatto, se abbiamo ben capito, Giancarlo Giorgetti rispetto ai due leader, ha consegnato una foto simbolicamente di Matteo Renzi e entrambi, ha detto tenetela sulla scrivania perché sapete quanto il consenso è mobile in questo periodo storico. Quindi può darsi che appunto il passo sia più lungo e che anche, come dire, a livello di immagine la situazione cambi. C'è un punto di forza, la professoressa Ventura del Movimento 5 Stelle è sempre stato noi siamo cittadini, ce l'ha ripetuto anche il capogruppo, non siamo quelli di prima, non siamo professionisti della politica, oggi però pronti e via, come diceva, quelli che hanno la professionalità politica la mostrano, no? E in questo combinato di strana alleanza… Ma infatti io credo che se questa esperienza di governo non si esaurirà appunto in un tempo relativamente breve, quindi continuerà, non so se per i cinque anni della legislatura o comunque per un periodo congruo, il Movimento 5 Stelle si troverà confrontato a questo problema, cioè quello del professionismo politico sostanzialmente, che non è in realtà una parolaccia, perché noi veniamo ormai da un trentennio di sentimento antipolitico, antipartitico, per cui la professionalità in politica è vista come un male assoluto. E questo appunto si è sposato con l'idea che in fondo la politica, che cosa dovrebbe essere? Fare buona amministrazione, che fare buona amministrazione non richieda poi particolari competenze, quindi appunto uno vale uno, chi passa di lì può fare questo. Ora è evidente che questo non è possibile e porta solo a dei disastri e un pochino a Roma credo che… Ci arriviamo da un attimo. Ecco, ce ne possiamo rendere conto. Il fare politica richiede anche tempo per acquisire competenze e abilità di vario genere, quindi anche quest'idea del limite dei mandati del Movimento 5 Stelle forse è insomma un'idea con dei grandi limiti, tant'è che abbiamo visto di Battista che ha fatto insomma questo gioco di starsene fuori un giro e confrontati a questo alleato di governo, appunto la Lega, che è un partito vero, con un radicamento territoriale, come si diceva con un'impostazione ideologica molto forte che tra l'altro ha anche la… che è stata portata dal suo leader ma che poi è stata anche elaborata diffusa all'interno di un corpo che è il partito e l'organizzazione, cosa che per esempio manca nel Movimento 5 Stelle, cioè sarebbe interessante capire nel Movimento 5 Stelle dove si elaborano le idee, perché c'è non esiste un corpo esterno al Parlamento, insomma alle affeve… Ci sarebbe tutta da fare una riflessione professoressa sul fatto che non avevamo capito che quel corpo, quello leghista, la svolta l'avrebbe accettata e non respinta, noi immaginavamo tutti che il leghismo del nord avrebbe respinto questa identità nazionale e così non è stata, però almeno non completamente, però sulla classe dirigente e sulla sua selezione, senta Duva, gliela metto così, Roma è un caso di scuola, selezione della classe dirigente per guidare una grande città, la prima città d'Italia e tanti tanti problemi, l'ultimo è quello che porta il nome di Lanzalone come ben sa. Il Lanzalone di Parnasi in realtà, che di fatto era quel costruttore che ha finanziato un po' tutti tranne il Movimento 5 Stelle, quindi cerchiamo anche di ricordare bene le cose, un po' tutte le persone, un po' tutte le forze politiche hanno ricevuto soldi, finanziamenti in maniera lecita, si vedrà se ha la magistratura a dirlo, da questo costruttore Parnasi. Lanzalone era stato scelto, selezionato per il suo ottimo lavoro fatto a Livorno, quindi la base era quella, una persona che a Livorno ha fatto bene e stata portata a Roma. Duva, sa qual è il primo punto? È chi l'ha selezionato, perché se la sindaca della capitale dice l'ha selezionato qualcun altro per me è un problema, lo capisce? Io non credo sia un problema nel momento in cui noi siamo come Movimento 5 Stelle una rete, noi ci vantiamo anche di questo, quando ci presentiamo alle amministrative, facciamo presente che il Movimento 5 Stelle non muore nella singola città, ma di fatto ha dei collegamenti a livello regionale, a livello nazionale, a livello anche europeo.